Subito il benvenuto a Luigi Di Maio, buonasera al Vicepresidente della Camera, Movimento 5 Stelle, bentornato, prego si accomodi. Allora, tante cose da dire alla Virginia del Ballottaggio, ma iniziamo da un altro punto. Mentre i giornalisti politici, in gran parte del Paese, pensa al ballottaggio, Renzi si sposta e annuncia la riforma delle pensioni. Oggi si sono incontrati a Palazzo Chigi e hanno detto che, cartello 11, vi faccio subito vedere, il Governo pensa a dare a chi ha tre anni dalla pensione, può mandarlo prima in pensione prestandogli i soldi, rata di restituzione potrebbe arrivare al 15% dell'assegno, più bassa naturalmente per chi intanto perde il lavoro, il prestito si ripagherebbe in 20 anni e verrebbe richiesto presso l'Inps. Due aspetti, uno tecnico del contenuto e l'altro politico perché insomma ha di nuovo spostato la palla. Parliamo di pensione. A parte che non credo che abbia spostato la palla, semplicemente uno dei suoi tanti annunci in vista di un appuntamento elettorale, cioè quello di domenica ai ballottaggi. E siamo al 56esimo annuncio di riforma delle pensioni. Ah, di riforma delle pensioni. Di riforma delle pensioni. Detto questo, io non so se gli italiani abbiano capito come Renzi intenda mandarli in pensione prima. La pensione, se hai 63 anni per la Fornero, devi andare in pensione a 67, te la paga la banca e poi tu devi ripagare, quando prendi la pensione a 67, il prestito alla banca con gli interessi mangiandoti il 15% della pensione a cui hai diritto. Quindi a me non sembra che ci mandi in pensione prima, che ci crei un mutuo a 63, a 64 anni che sempre noi ci dobbiamo ripagare. E mi dispiace, mi dispiace che in questi giorni, devo dirlo... Sì, inserisco perché dunque sarebbe una fase sperimentale, riguarderebbe, arrivano i particolari mentre parliamo... Sì, le generazioni nate tra il 51 e il 55, il capitale viene anticipato da banche convenzionate con l'Inps, il prestito sarà senza garanzie reali, quindi naturalmente non è che poi ti prendono casa e in caso di morte non ci si rivale sugli eredi, diciamo. Quindi che cosa dobbiamo sperare, non ho capito, dobbiamo sperare che la persona per non pagare il prestito, dobbiamo sperare di morire. Però diciamo... Ci ha portato a questo, Matteo Renzi. Non è facile, diciamo, questa posizione, però c'è pure da dire che se vuoi andare in pensione prima i soldi alla fine... Abbia pazienza, ma è un paese in cui si pagano 12 miliardi di euro di pensioni d'oro, ma come si fa a dire agli italiani che devono farsi un mutuo per andare in pensione prima? E se posso dire una cosa, se posso dire una cosa, a questo tavolo oggi, a questo tavolo oggi c'erano da una parte il governo e da una parte i sindacati. Io non credo... Quindi hanno riaperto il dialogo. Ma io non credo che i sindacati si debbano prestare a queste passerelle politiche del governo Renzi. Entrambi poi non parlano mai delle pensioni d'oro, forse perché sia i grandi sindacalisti e sia i politici del PD prendono le pensioni d'oro e i vitalizi per questo... Dunque, ci sono due aspetti. Il primo, fino a che Renzi con i sindacati non parlava, molti commentatori, anche molti politici, hanno detto, ah beh, ma così rompe con i corpi intermedi, non c'è più rappresentanza, vuole fare tutto da solo. Adesso riapre la porta ai sindacati e fanno male loro a andare. Le posso dire una cosa? Tutte le volte che abbiamo visto nell'ultimo periodo una contrattazione sindacale, è stato solo per un annuncio. Io non ho visto ancora una contrattazione della nuova era Renzi che si confronta con i sindacati andare in porto. Lei dice li usa? Li sta usando e io credo che i sindacati non si debbano far usare. Poi sono sicuramente più intelligenti di me, io non voglio assolutamente dare consigli. Diciamo noi che sono proprio ragazzini, eh? No, io credo che in questa fase qui loro non si debbano far usare. Però in qualche misura è un passo indietro della linea Renzi, no? In qualche misura è un po' un prendere atto di aver finora sbagliato, forse, perché finora decideva e poi dice mandatemi una mail ai sindacati, si ricorda? Mandatemi una slide, mandatemi una mail. Quella era la campagna elettorale delle europee. Poi adesso siamo in un'altra campagna elettorale in cui gli siamo a voti un po' di sinistra e qui gli avrei sindacati. Gioca così. Adesso andremo alla campagna elettorale. Mi dica... Beh, diciamo, la domanda l'ho scritta, quindi ormai gliela faccio, immagino una risposta. Il 16 c'è il funerale della Tasi. Io le dico soltanto una cosa, senza assolutamente fare facili ironie. Se oggi Renzi ha tagliato la Tasi è perché ha tagliato 4 miliardi a luglio scorso dalla sanità. E il rapporto Censys di qualche giorno fa ci dice che 11 milioni di italiani negli ultimi 12 mesi hanno rinunciato a curarsi per problemi economici. Di converso uno studio della Will ci dice che anche se ha tagliato la Tasi, tutte le altre tasse sono aumentate appunto da neutralizzare il taglio della Tasi. E la politica del governo entra da una parte e esce da un'altra. Sembra proprio la dichiarazione di Brunetta, solo qua. Beh, ma mi scusi, ma sulle bugie Renzi riesce addirittura nel miracolo di mettere accordo me e Brunetta. Allora, una bugia è una bugia. Faccio vedere quello che è stato, ha colpito molto gli osservatori. Renzi è andato a commercio. I commercianti sono state una forza che l'ha portato molto anche al strepitoso risultato dell'europea. Insomma, è una forza. E così è andata quando ha parlato degli 80 euro. Gli 80 euro super discursi, super contestati. Vai, guardate! Guardi, io sugli 80 euro ho grandissimo rispetto per chi gli ridiene una mancia elettorale. Siccome conosco delle persone che guadagnano 1000 euro al mese e non riescono ad arrivare alla fine del mese e grazie agli 80 euro si sono permessi un zainetto in più, una cena in pizzeria in più, io sono molto contento. È una valutazione che rispetto. Ragazzi, io guadagno 5000 euro netti al mese, che sono tanti. Guarda, guarda! Fermi lì, fermi lì! No, no, guarda, ragazzi, ho fatto l'arbitro in Garfagnana. Se pensate che mi preoccupi, fate una discussione sugli stipendi, c'è un punto centrale. La riduzione dello stipendio, caro amico che sente il plus su questo, la puoi fare su due settori. Il primo sui manager pubblici e il primo atto, insieme al decreto degli 80 euro, è stato il vetro di 240 euro. Attenzione a perdere la memoria, perché su questo è un problema. Allora, carattere, perché sente comunque affronta il confronto duro vis-à-vis, però certo qualcosa non torna nella politica di Matteo Renzi, no? Perché andare alle elezioni e beccarsi fischi da parte delle persone che lo hanno portato, cosa ha sbagliato? Matteo Renzi, poi passiamo a cosa... Edontalmente state sbagliando voi. Io penso che lì basta contestualizzare la platea. Quella è una platea di imprenditori commercianti principalmente. Questo è un paese in cui chiudono 380 imprese su per giù ogni giorno. E abbiamo un problema dal punto di vista dei debiti che la pubblica amministrazione deve pagare alle imprese di 61 miliardi di euro. Cioè le imprese italiane hanno fatto un lavoro per lo Stato e lo Stato non le ha pagate ancora per 61 miliardi di euro. Questo ha portato un danno economico per le imprese italiane di 5,4 miliardi di euro. Perché chi non ha liquidità non può fare investimenti e addirittura è costretto a chiudere. Questo scenario qui, che è già drammatico, se su questo scenario, su queste persone, tu infierisci cominciando a parlare degli 80 euro, è logico che ti prendi fischi. È logico che ti prendi fischi. Io dico soltanto una cosa, perché poi... Altrimenti qui parliamo soltanto di Matteo Renzi, ma non diamo soluzioni. Io penso che in questo momento storico del Paese, in cui le banche non danno più finanziamenti a chi ha una buona idea imprenditoriale e non la può realizzare proprio perché non puoi impegnare il quinto e lo stipendio di tua madre, non puoi impegnare la pensione del nonno, non puoi impegnare casa tua, ci sia bisogno di una banca pubblica che dia finanziamenti a chi oggi o è famiglia o è imprenditore e non ha la possibilità di accedere ad un credito, come si fa in Francia e in Germania. Diciamo, lei le conosce le esperienze di banche pubbliche italiane, no? Sono sempre finite con grandi scandali, con grandi soldi persi. Mi rincuora una cosa, che nella mia idea di Paese e nella nostra idea come Movimento di Cinque Stelle... Una banca pubblica guidata dai Cinque Stelle? No, una banca pubblica in cui il borde è indipendente, come fanno in Germania e come fanno in Francia. Si possono scegliere attraverso dei curriculum selezionati per competenze o addirittura attraverso meccanismi di sorteggio, come la nostra idea per esempio del GDA della RAI. Ma tutto è legato però ad una cosa. Una banca pubblica che può dare finanziamenti anche senza garanzie, perché appunto se le dà chi non le dà, o per sorteggio oppure scelto dalla politica. Le do una notizia. Il Movimento Cinque Stelle, tagliando gli stipendi dei propri parlamentari, eroga microcredito a chiunque. Chi glieli restituisce a quella banca quei soldi? Chi gliele restituisce? Glielo spiego subito. Noi abbiamo erogato 17 milioni di euro di nostri stipendi a 2000 soggetti che in Italia hanno aperto imprese, esercizi commerciali, studi professionali. Siete persone che prestano. No, no, no. Le abbiamo erogate attraverso un fondo pubblico in cui mettiamo i soldi dei nostri stipendi, e chi ha un'idea di negozio, imprese o industria lo può aprire senza dare garanzie reali. E certo che ce li devono ridare indietro. Se non ve li ridanno indietro. Su 2000 imprese, lo 0,01% non ha restituito la rata. Tutti gli altri sono stati corretti, perché se valorizzi l'idea, se in questo paese valorizzi l'idea e non chiedi soltanto di impegnare la casa, se l'idea è valida, l'investimento rientra. E' questo quello che sta succedendo negli altri paesi. Allora, Presidente Di Maio, su quello che fareste voi. Perché appunto c'è chi dice, vabbè, in effetti Renzi sta zoppicando, il centro-destra si trova in maniera un po' spersa, un po' diviso, un po' c'è Berlusconi che non riesce a ridare verba alla propria leadership. I 5 Stelle crescono di rendita, perché basta aspettare quello che fanno loro. Non credo che sia così, poi ne avremo modo di rispondere. No, certo, espongo una teoria che ora cercherà il suo commento. Cartello 10. Guardi, se lei riesce ad andare al governo entro l'autunno a guidare il prossimo governo, lei deve trovare per il 2017 10-11 miliardi tra taglio deficit e richieste commissione. Altri 10 miliardi se vuole finanziare le cose belle che ha proposto Renzi. Il punto è se hai soldi per farle o no, però taglio IRPEF, non è che si può dire non mi va, aumento pensioni minime, che deve dire? Flessibilità in uscita, riduzione, 20 miliardi. Da dove li trova? Questo è un paese in cui abbiamo 10 miliardi, mi tengo basso, 10 miliardi di euro di mancato introito dalla lotta alla corruzione, 12 miliardi di euro di mancato introito dalla lotta alla contraffazione, 10 miliardi di euro di enti inutili, 12 miliardi di euro di pensioni d'oro. Le sto già citando oltre 40 miliardi di euro che possono essere tagliati da quello che non serve e messi su quello che serve. L'importante è mandare al governo persone che di questi privilegi, di questi sprechi, non se ne nutrono. Quando io dico che il Movimento 5 Stelle ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e ha tagliato 17 milioni di euro ai propri parlamentari, è per dirvi che noi abbiamo la credibilità per andare lì e applicare le regole che ci applichiamo a mille parlamentari, 900 consiglieri regionali, 8 mila sindaci e cominciare a drenare miliardi di euro di sprechi dal bilancio dello Stato e investirli in misure che creano lavoro, maggiori servizi e maggiore benessere. Allora, riduzione di aria dei parlamentari. Generale, costi della politica, quanto ci vuole fare dai costi della politica? I costi della politica sono prima di tutto, infatti non gliele ho citati in quelle fonti di miliardi di euro che dicevo, sono prima di tutto un aspetto culturale. Guardi, io credo che nessun pensionato minimo in questo Paese che prende 400 euro al mese possa credere nello Stato finché ci sarà un parlamentare che con tre anni in Parlamento prende 8 mila euro di litigio. E questo ha ragione, il valore simbolico è enorme. Contributo, solidarietà, pensioni alte, diceva. Quello la Corte Costituzionale l'ha invalidato già due volte. È molto semplice, io lo voglio precisare qui. Chi ha versato i contributi per la sua pensione, per quanto alta sia, è giusto che siccome ha versato i contributi la prenda. Ma la, come si detta, sentenza della Corte Costituzionale ci dice un'altra cosa. Dice, voi dovete tagliare proporzionalmente su tutte le pensioni per riuscire a tagliare quelle d'oro. Allora io posso tagliare un euro su quella minima e tagliare 4 mila, 5 mila, 6 mila euro su quelle enormi, sulle pensioni d'oro e spostarle sulle minime. Quali sono le pensioni d'oro dal suo punto di vista? Dal mio punto di vista, quelli che non hanno versato i contributi per guadagnare più di 5 mila euro di pensione, e li abbiamo dato anche ampi margini. E ve la siete cavata, dice. Allora, senza, mi dica a queste comunali, qual è il ballottaggio più importante? Roma, immagino, no? Per voi. Guardi, io non le so dire se tra Roma, Torino, Milano, Bologna ci sia uno più importante. L'importante è capire che cosa ci sia in gioco. Voi siete in ballo a Roma e Torino, di quelli più... Sì, i nostri sono Chiara Appendino e Virginia Raggi a Torino e a Roma. Che diceva giustamente Bruno Vesco, un'immagine che uno non si aspetta dai 5 Stelle. Eppure queste persone fanno parte del Movimento 5 Stelle da quando è nato. Io credo che sia stata anche una narrazione sbagliata del Movimento 5 Stelle, perché siamo tutti come Chiara Appendino, Virginia Raggi. Ovviamente ognuno è differente nei suoi gusti, nel suo modo di vestire, nel suo modo di atteggiarsi, ma tutti quanti abbiamo un'idea di paese alternativa e la vogliamo portare avanti. Io le dico solo una cosa su questi ballottaggi. Lei si ricorda quando tutti ci dicevano se volete vincere dovete fare compromessi, dovete allearvi, dovete accettare i rimborsi elettorali? Ebbene, siamo al ballottaggio a Roma e a Torino solo con una lista senza esserci alleati, senza compromessi e senza aver preso finanziamento più. Allora, noi avremo ospite Virginia Raggi a breve. Lei sa che la campagna elettorale porta un pochino in delle posizioni standard, noi candidati. Allora, il PD dice alla Raggi che è un po' evanescente, che ha delle idee, come vuoi tornare al baratto, appunto vuoi mettere nella funivia. Il 5 Stelle dice al PD, voi siete tutti uguali, tu sei la conseguenza di Marino, eccetera. Qual è la debolezza della Raggi? Ma io sono la persona meno indicata anche perché sono in conflitto di interessi in questo momento. Beh, ma la onestà è più esperienza. Penso semplicemente una cosa. Lei ha ragione a dire che ci sono posizioni standard, perché ormai i programmi si somigliano tutti. Il problema è chi è che il giorno dopo le elezioni fa quello che diceva il giorno prima delle elezioni? Perché poi il sunto di queste elezioni... Io vivo a Roma da tre anni, ho una buca sotto casa, un marciapiede che non viene pulito quasi mai e ho un problema di trasporti pubblici quando devo andare alla Camera col tram che è sempre in ritardo. Allora io dico, affidare la Capitale o Torino a chi l'ha già governata e ha già dato dimostrazione di non essere in grado di cambiare niente, penso che aumenti le probabilità che quella buca resti sotto casa e il marciapiede resti in quelle condizioni. Cambiamo tutto, cambiamo tutto votando per qualcuno che le promesse le ha mantenute. Sa cos'è? Questo è un discorso che però vale sempre per tutti, ma appena ci sarete voi arriverà uno ancora più questo. Le posso dire una cosa, però io sono orgoglioso di far parte di una forza politica che quando è entrata in Parlamento non ha aspettato una legge e quindi non ha usato una scusa per rinunciare ad auto blu e volo di Stato. Io sono vicepresidente della Camera, non ho mai utilizzato la mia auto blu e non ho mai utilizzato un volo di Stato e non ho aspettato una legge e questa è credibilità, credo. La Raggi ha detto che ogni avviso di garanzia che le dovesse arrivare, abbiamo parlato più volte delle svicende che hanno colpito Livorno e altre, Parma e altri sindaci, lei si rimetterebbe al giudizio del popolo. Ok, allora, mi arriva un avviso di garanzia, immagino un'elezione perché non è si può andare su internet, rimango, no, giudizio del popolo, rimani, sette giorni dopo, quattordici giorni dopo, come è successo a Pizzarotti, te ne arriva un altro, che fai? Richiami tutto il popolo e voti? Io credo una cosa, che lo snodo non è l'avviso di garanzia, cioè è causa di dimissione anche un comportamento che non prevede conseguenze penali. Nell'ambito dell'avviso di garanzia, io ho sempre detto e siamo rimasti lì, che noi non abbiamo mai chiesto per esempio le dimissioni di un sindaco del PD o della Lega per un avviso di garanzia per atto dovuto, che significa che un magistrato deve investigare sul sindaco perché è il sindaco, ma quando ci sono fatti gravi è il popolo italiano che ti chiede le dimissioni e lì lo senti, non c'è bisogno neanche di dire un referendum, lo senti quando il popolo ti vuole mandare a casa perché hai fatto una cosa immorale e antietica. Che vuol dire lo senti? Le dimissioni emotive? Non sono dimissioni emotive, è la capacità di restare in connessione con le persone che ti votano e quelle che non ti votano, questo è importantissimo. Grazie Presidente Di Maio per essere stato con noi.